La lista di etichette indipendenti per oggi qua al campus, stavolta ci siamo spostati, ci siamo traslati di una sedia Allora la prima domanda è questa, come nasce, innanzitutto diteci i nomi delle vostre etichette indipendenti Garrincia Dischi 42 Records o Forti 2 Come nasce un'etichetta indipendente? Allora io penso che ognuno ci abbia la sua storia, la mia molto banalmente avevo bisogno di pubblicare dei dischi e volevo non essere più per l'appunto dipendente dagli altri E quindi ho detto sai cos'è? Mi faccio un'etichetta Diciamo che tolto il primo album ho solo pubblicato dischi di altri da lì in poi Quindi poi dopo come sempre le cose nascono per un motivo e poi si finisce a fare la cosa a fianco Quindi il tuo è stato il primo? Inizialmente sì, era un'esigenza mia, sì sì, di pubblicare un mio disco e mi sono detto basta, faccio da solo Sentiamo anche la tua allora Nasce dalla voglia di provare a fare qualcosa di personale nella musica Io faccio il giornalista musicale quindi già lavoravo nella musica però dall'altra parte Ad un certo punto mi è venuta la voglia di provare a vedere com'era stare dalla parte di chi i dischi li produce Anche come nel caso di Matteoli la cosa è nata assolutamente per pubblicare in vinile un disco Che poi non abbiamo mai pubblicato Sì, abbiamo fondato l'etichetta per pubblicare un disco che non abbiamo pubblicato Infatti è molto divertente per andare così Bene, come scegliete il vostro disco da pubblicare? Come lo scegli? Allora, non c'è un metodo ovviamente Parte di sicuro dal fatto che ti deve entusiasmare Anche perché un disco comunque al di là delle economie ci dovrai dedicare molto tempo sopra E quindi bisogna che ti entusiasmi l'artista, la persona e il prodotto E quindi devi sapere che sei andato a lavorare con qualcuno che ti piace E che fa delle cose che ti piacciono Sennò diventa molto difficile Quindi lo devi conoscere anche un po' Non solo ascoltare la musica Assolutamente Normalmente senti qualcosa e dici andiamolo a conoscere Se poi dopo quella persona capisci che non è una persona che è in linea Non è uno dei tuoi come diciamo noi in gergo Non ti sembra che possa far parte della famiglia È capitato anche volte che ci hanno detto No, questo no, non è dei nostri, non facciamolo dai Perché insomma c'è un consentimento di appartenenza Quindi ci deve piacermi quello che fa ma anche come persona Che difficoltà incontra un'etichetta indipendente oggi in Italia? Le difficoltà che incontrarono secondo me Tutti quelli che si muovono nel mercato discografico Considerando il fatto che comunque anche per le major L'industria discografica in questo momento non è particolarmente sorridente Quindi non è più come negli anni 70 In cui magari c'era un underground che si muoveva nel molto molto piccolo E il mainstream in cui invece giravano tanti tanti soldi Adesso secondo me le cifre sono anche simili Quindi è difficile però è anche molto stimolante Perché ti devi reinventare ogni giorno Devi trovare ogni giorno la tua chiave secondo me Per muoverti all'interno di un certo tipo di dinamica Internet è una risorsa o uno sta con una spina nel fianco? Vado io? Lo dico io? Io sono un po' Io internet sono Sai quando tipo Stai con qualcuno che ti piace tanto però un po' ci litighi Ultimamente io internet stiamo litigando Sì, sì No, eravate amici però No, no, eravamo proprio innamorati Cioè io internet è proprio la donna della vita Però ad un certo punto qualcosa si è rotto No, in realtà secondo me internet per noi è sicuramente una risorsa Che ci ha permesso soprattutto di rompere uno schema E anche lo schema della promozione classica Di un certo tipo di regole E questa cosa qui ha permesso alle etichette come la mia, come la sua Di farsi conoscere alle band, di emergere e occupare uno spazio Al tempo stesso mi sembra che internet Ma non solo per quanto riguarda la musica Per quanto riguarda tutto Stia diventando un po' Faccio un discorso pesante Stia diventando un po' la base del capitalismo Dove va bene solo quello che già funziona Per cui i siti danno spazio ai gruppi che già funzionano Anche nell'indie perché gli serve fare click Spotify mette nelle playlist le band che già funzionano Perché gli serve fare ascolti e fare click Quindi in qualche modo mi viene sempre in mente quel film Dove si dice che c'è una pillola Che ti aiuta a far espandere il cervello del mille per mille Limitless Limitless esatto Per me noi stiamo usando internet al 5% delle nostre possibilità Sì, il rischio di internet Che comunque è il vero motivo per cui abbiamo potuto fare quello che abbiamo fatto Perché sarebbe stato tutto molto più complicato Avrebbe avuto bisogno di molti più soldi per partire Per fare che la nostra start up Poi dopo diventasse un'azienda Perché sono delle aziende in qualche modo Il vero limite è che In internet esistono subito i dati Che ti dicono che numeri stai facendo E quindi tutti siamo No, chi più chi meno Un po' ossessionati dai numeri E quindi tu sai quanta gente ha guardato E quanta gente ha ascoltato il tuo pezzo Non serviamo neanche più noi da filtro Che chiamiamo l'artista Diciamo bene, stiamo andando bene L'artista si fa un giro E potenzialmente in maniera ossessiva Può aggiornare continuamente pagine Ed essere felice Dirsi che è il numero uno nel mondo O dire abbiamo fatto poco Quindi questo ci rende schiavi dei numeri Perché i numeri li vedi Occupano un bello spazio A fianco a qualunque cosa Che sia la storia di Instagram Che sia il video O che sia Spotify Quindi questo è il grosso limite Siamo un po' schiavi di quei numeri lì Quindi quello che era la figata di internet Era che io posso caricare E diventare la star del momento Siamo un po' entrati dentro il problema Quello del mondo del lavoro Che ti voglio solo se hai già esperienza Ma dove la faccio l'esperienza Non so dove la farla Perché tutti ti vogliono già con l'esperienza E un po' sta diventando L'internet sta diventando un po' Quel problema lì Va bene Vogliamo chiudere con un augurio A questi ragazzi Vai Io odio un sacco La retorica del sogno Quando ci sono i talent Ti dicono sempre Devi inseguire il tuo sogno Invece Secondo me la musica È anche un po' etica del lavoro E quindi Il mio augurio è Trovate la vostra strada E poi fatevi un culo così Perché se vi fate un culo così Le cose andranno bene Esatto Assolutamente Darsi un sacco da fare Io ogni Credo Che il 90% Sono la totalità degli artisti Con cui oggi mi trovo a lavorare Gli ho notati Perché si Facevano di tutto Per farsi notare Sull'internet E non Facendosi foto belle Ma perché scalciavano Facendo i video live Per strada Prima degli altri O perché facevano Trovando il loro modo Sempre Sull'internet Di farsi notare Di crearsi un pubblico da sé Quindi datevi Da fare tantissimo E poi arriverà Della gente Come l'etichetta Che potremmo essere noi O dei booking Della gente A darti una mano Però datevi da fare Da soli tantissimo Grazie 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 mille ragazzi Grazie